La saga del regno d'Italia. Eccola qui, tutta completa, perché adesso è uscito anche Bugifera, l'ultimo volume di questa appunto saga, Grim Dark Fantasy, italiana scritta da Jack Sensolini e Luca Mazza. Come vedete, c'è una bella quantità di pagine da leggere, e voi direte, le hai lette tutte? No, manco per niente. Finalmente però, finalmente, ammetto la mia colpa, sì, mi inginocchio e mi crocifigo qui davanti a voi per dire che finalmente ho letto il primo volume e ho capito tante cose. E sì, perché il primo volume, Villupera, l'ho letto finalmente, perché Sensolini e Mazza, io li conosco, sono bravissimi ragazzi, so che hanno avuto successo, che questa saga è molto amata da tanti lettori, però, tra una cosa e l'altra, finora non mi ci ero messo di impegno, ma adesso era arrivato il momento giusto, avevo bisogno di qualcosa di diverso dal solito e mi sono fiondato su Villupera. L'ho letto e ho tante cose da dirvi su questa saga, ma tante! E voglio fare un video un po' diverso dal solito, non sarà il solito video in cui vi dico come scrivono soltanto, eccetera, eccetera. Qui dobbiamo parlare di questa saga, che sì, leggerò tutta, assolutamente, adesso però io ho urgenza di parlarne, non tanto con chi già la ama, ma con chi ancora non l'ha scoperta, perché dobbiamo parlare! Valle d'Orta Torturino Lombardia Milama Letalpi Veleneto Pianura Pagana Emilia Romagna Grande Maraglia Tiscanna Tiscanna Pestoia Mortirreno Fierenze Ghisa Empioli Penumbria Grimia Vertugia Sansepolto Fellazio Demolise Crabbasso Lacerata Lacerata Impotenza Sud Italia Crepanzaro Tarantolo Bara Vivo Violenza Sorcilla Sorcilla In Palermo Indegna Scortica Benvenuti Benvenuti Nel Regno D'Italia Benvenuti Nel Regno No, no, fermi tutti, ma che benvenuti? Il Regno D'Italia è un postaccio di merda Un posto Pessimo in cui nascere, in cui crescere, in cui cercare di farsi una vita Però è un bellissimo posto in cui passare le vacanze, anche perché si mangia molto bene Naturalmente sto introducendo la mia ipotesi, la mia tesi, su questa saga Partendo dalla lettura di Vilooper, appunto Che, oh, questo qui, eh Vi metto qui sotto in descrizione Insieme a tutto il resto della saga Ecco, questa qui Perché se volete leggerla, volete acquistarla Passando dai link che vi metto qui Voi potete acquistarla su Amazon e mi aiutate Mi aiutate perché è una piccola percentuale Finisce nei forzieri di Broken Stories E naturalmente questi libri entrano e sono entrati di diritto nello shop di Broken Stories Che è la libreria virtuale su Amazon dove io seleziono per voi il meglio del dark e del fantasy Fateci un giro, io l'aggiorno costantemente, vedete un po' voi Torniamo a parlare di Vilooper Io ho la mia tesi E la mia tesi è che Mazze e Sensolini Scrittori di fine ingegno Siano dei gran furboni Ve lo dico con ammirazione Sì, perché hanno nascosto dietro questa Le spoglie di una satira Di una parodia fantasy Di un'avventura Truculenta E come noto Molto grimdark E hanno nascosto comunque una loro percezione del mondo Una loro poetica si sarebbe detto una volta Guardate, non la voglio fare lunga Perché so anche che insomma nell'ambito del fantasy non è che amiamo tanto le teorie letterarie sofisticate I paroloni per nascondersi dietro... per nascondere dietro un paravento appunto di grandi frasi magniloquenti il nulla assoluto Non aspiriamo al premio strega in sostanza Ma... Io credo che questa saga del regno d'Italia Abbia qualcosa in più Rispetto a... Il puro commodity fantasy Sì, questa non è una saga comoda comoda E da quello che ho letto e da quello che altri lettori di cui mi fido moltissimo Scrittori che se ne intendono e che mi hanno riferito Insomma, questa saga ha dentro qualcosa di più Che cos'è? Beh ragazzi, fondamentalmente è la risposta a una domanda che molti lettori di fantasy spesso mi hanno posto Alla luce del fatto che ha molto successo in Italia, ha avuto molto successo per esempio questa saga E io le auguro di averne sempre di più Ha successo questo approccio Questo modo di raccontare un fantasy all'italiana in cui gli eroi sono dei cialtroni, dei mascalzoni L'ambientazione è fatta solo di potenti corrotti Di un'ambientazione... sì, è un mondo di mascalzoni di nuovo Di poveracci, di potenti incuranti del popolo È un mondo di corruzione, di degrado morale Dove non c'è speranza, dove non c'è luce E allora molti si chiedono Ma perché noi non possiamo invece scrivere un'epica italiana in cui emergano anche valori eroici, positivi? Anche perché nel fantasy spesso noi immancabilmente ci confrontiamo con gli altri modelli Che sono quello anglosassone che comincia Comincia no, ma comunque che ha il suo perno in Tolkien Queste figure eroiche Questo grande massimalismo E poi gli americani non ne parliamo E poi c'è tutta l'ambientazione, la tradizione norrena Insomma dei vichinghi Quel tipo di etos No? E invece noi? L'armata branca leona Ma insomma Ma possibile Perché il Regno d'Italia è questa roba qui Una parodia dove c'è in uno specchio distorto Beh, la rappresentazione di quel che siamo O di come noi ci percepiamo E noi come ci percepiamo? Di certo non come i norreni E spiace dirlo Ma secondo me anche il successo, l'apprezzamento, la simpatia che si è conquistata questa saga È dovuta Sono dovute Al fatto che dice delle cose vere Dice la verità su di noi Sull'Italia Un paese di cialtroni Un paese di potenti che non si sono mai curati del popolo veramente Un paese di diseguaglianze mostruose Mostruose Ma basta leggere alcuni libri che ci parlano dell'Italia contemporanea Dove l'ascensore sociale si è totalmente bloccato Dove le ingiustizie sono all'ordine del giorno per quanto riguarda le sperequazioni fra le generazioni Tra chi è più anziano e ha di più e tra i giovani che hanno sempre meno E non importa Non importa a nessuno Dove la corruzione politica o la da benaggine politica all'ordine del giorno Ormai noi ci abbiamo fatto completamente il callo Non la voglio fare lunga Ma tanto lo sapete Come noi stessi ci percepiamo E in questa In questo merdaio In cui siamo L'unica Forma di Di rivalsa L'unica speranza L'unico appiglio Al quale ci aggrappiamo È quello di Vederci Così Come Siamo rappresentati Per esempio in questo romanzo Cioè Sì siamo dei cialtroni Siamo delle merde Viviamo in un posto orribile Bellissimo potenzialmente Ma poi reso orribile da noi stessi Però almeno Un po' come l'armata Branca Leone Siamo nobili dentro Tra di noi A un certo punto Tra i migliori di noi Diciamo scatta qualcosa E quindi siamo creativi Nel tirarci fuori dai guai Guai che magari abbiamo creato noi stessi Di cui siamo complici Ecco questo è l'Italia Noi non siamo I vichinghi Siamo sempre stati Più cattivi Dei vichinghi Siamo sempre stati Più cattivi Di tutti Oggigiorno L'Italia è Certificato Questo è certificato E il paese Occidentale Insieme agli Stati Uniti Con le peggiori disuguaglianze Per le donne Per i giovani Per i disabili Per i poveri Dove se sei povero Nasci povero E resti povero Siamo di nuovo In quel tipo d'Italia Che è perfettamente rappresentata In questa saga Dove Noi siamo messi alla berlina Completamente L'Italia rappresentata Da Mazza e Sensolini A me ha colpito per questo Perché ci stanno raccontando Come viviamo veramente A mio modo di vedere Attraverso la lente Che distorce Certo Del grim dark fantasy All'italiana Ma all'italiana veramente Altro che eroismo mediterraneo Ma quando mai E' per questo che ho apprezzato Veramente tanto Intanto ecco Diciamo l'impianto Io non voglio dire politico Perché poi suona male La gente nel fantasy Se la prende male I lettori dicono No 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 se c'è di mezzo la politica Però questo messaggio che a me arriva Questa verità Questa sincerità Secondo me è un po' politica Così come erano politiche Le grandi commedie all'italiana del passato Quelle con i vari Gasman I vari sordi E intendiamoci questi attori qui Che hanno fatto Ne dico solo due Dove l'italiano era sempre lo sfigato E' sempre lo sfigato Perché nasce in un contesto sfigato Che è il regno d'Italia Dove tu nasci Con un danno di cittadinanza Intrinseco Fin dalla culla Non siamo un paese Del nord Europa Ma non siamo neanche la Francia Non siamo neanche la Germania Non siamo niente di tutto questo Siamo l'Italia Anzi siamo Il paese dei fratelli di Italia Punto E' questo Quindi Mazze e Sensolini Mi hanno molto colpito Per la loro schiettezza Che poi racconta tutto questo Con un approccio Però scansonato Perché poi è questo Che ci salvano italiani Riusciamo a ridere di tutto Riusciamo a ridere Del peggio del peggio Della tragedia Che è nostra Ok? E quindi cosa ci raccontano Invilupera? Fermi tutti Allora In breve la trama Siamo in penumbria Che è l'Umbria Chiaro Ci sono due ducati Orbino e Crimini Governati da I duchi naturalmente I lutti e i malavita Già i nomi E' tutto E' tutto un'invenzione Capite? Questa serie è tutta un'invenzione Incredibile Riga dopo riga E già solo per questo Noi dobbiamo rendere grazie Grazie Mazze e Sensolini Odiandoli Ora vi spiego anche perché Due famiglie in lotta Che però Cosa fanno? Combinano un matrimonio Per allearsi Tutto questo sullo sfondo Di una Regione Del Regno d'Italia Da cui il re Ormai Insomma Si è allontanato Da molti anni Perché è andato a combattere Le crociate ad Apokalem Gerusalemme Si chiama Apokalem Immaginate Anche qui Geniale Ecco Allora loro cercano di allearsi Sullo sfondo di questa Regione In cui dieci anni prima Hanno sì Conquistato il potere Strappandolo Da una famiglia Di eretici Che hanno sterminato E quindi sullo sfondo C'è questa tragedia Di dieci anni prima Compaiono due Tagliagole Che sono il barbiere E la lebrosa Che sono i nostri eroi Ma sono eroi Da regno di taglia Cioè Dei tagliagole appunto Senza Senza ideali Senza Senza nient'altro Che spirito di sopravvivenza E cattiveria Distillata Perché Per sopravvivere In un regno Così crudele Bisogna essere I più crudeli Dei crudeli E questo è lo sfondo E poi tutto il resto È Un linguaggio Che adesso andiamo Ad esaminare E scene Raccontate Veramente Con grande Talento E grande capacità Grande competenza Professionalità Arte Siamo di fronte A due autori Io lo dico Senza nessun tema Di esagerazione Ed è qui Che torno a dirvi Che Di conseguenza Maledico Mazza e Sensolini E con me tanti altri Perché Noi siamo nel regno D'Italia Ragazzi E nel regno D'Italia Non siamo mica in America Qui O in altri paesi In Francia eccetera Qui I vincitori Noi li odiamo E li vogliamo Vedersi andare a terra E quindi loro Che sono vincitori Che sono bravi Che scrivono questi libri Così interessanti Così densi E che vendono tante copie E che piacciono a tante persone Io li odio E voi con me Ma sicuramente Ma non tanto Perché Perché Mazza e Sensolini Poi sono proprio dei furbacchioni A livello di comunicazione Il modo in cui Si presentano Che Non metto in dubbio Che sia assolutamente naturale Hanno proprio L'istinto Quell'istinto Di sopravvivenza Tipico Dei cittadini Del regno D'Italia Che Consiste In una sorta di Understatement Mi verrebbe da dire Perché non mi viene la parola in italiano Cioè Loro si Si presentano come due Compagnoni Due Due semplici Ma anche Nella maniera in cui Sono molto Umoristi Sono molto ironici Anche sarcastici Ma comunque Si presentano Con grande umorismo E in Italia Se vuoi primeggiare Mi disse una volta Uno molto famoso Non te la devi tirare Come fanno gli americani Non devi avere questo approccio Molto self made man No Devi essere umile E auto ironico Ironico Devi far ridere Allora se gli italiani Li fai ridere Li conquisti E loro fanno anche questo Capito? Perché ci fanno anche ridere Hanno un approccio Io credo sincero Assolutamente Da compagnoni E però non sono solo due compagnoni Sono due scrittori Diabolici Perché Vilupera Che è già un libro Di qualche anno fa E io Sono curioso poi di Arrivare a leggere Bucifera Che è l'ultimo Quindi dove la loro evoluzione stilistica Sicuramente ha avuto Un'evoluzione Appunto ha avuto E' andata avanti Sono curioso perché Questi due scrivono Scrivono a modo loro E quindi hanno anche trovato Una propria voce E' una cosa insopportabile Ma scrivono Cioè Non sono Dei parvenu Che arrivano Sul teatro Della prosa Cioè Della lingua letteraria Per Imitare Tanti altri No Si inventano una lingua Si inventano uno stile Che è molto italiano Ed è questo Perfettamente coerente Col progetto Perché è molto italiano Perché pesca Dall'alto Come dal basso Da destra Come da sinistra Pesca Nel vocabolario italiano Nello stile Italiano A piene mani Per regalarci Un periodare Che Sì Nella mia Diciamo Esperienza Direttore Degli ultimi te Ultimi tempi Ultimi lunghi tempi Trovo Trovo un parallelo Effettivamente Per sensazioni Che mi hanno donato Soltanto In Andrea G. Pinketz Compianto Autore di noir Andrea Andrea Genio Pinketz Che appunto Ci ha regalato Dei gialli Dei noir Strepitosi Che naturalmente in Italia È stato molto sottovalutato Mentre in Francia Era una star Incredibile Perché i francesi Vincitori Piacciano Invece E noi ancora Forse lo consideriamo Uno stravagante Centrico scrittore Di gialli Col cazzo Andrea G. Pinketz Era un genio Uno dei più grandi Scrittori Dell'ultimo secolo Qualcosa di strepitoso E aveva Che cosa Il senso della frase Cioè La capacità Di Lanciare le parole Come Un lanciatore Di coltelli Lancia i coltelli Capito Di Era un funambolo Era un Un poeta In prosa Ma un poeta Però Di questo Scazzo italiano Un cinico Un amareggiato Un disincantato Poetico Narratore Di questo squallore Che è l'Italia E lo faceva Con delle frasi Di un periodo Dario incredibile E Mazza e Sensolini Magari non ancora Arrivando A quell'apice Ma a modo loro Cacchio Cacchio Come scrivono Io non so se sono capaci Di scrivere Come gli altri Cioè in maniera limpida Semplice Quella scrittura trasparente Che nella narrativa Di intertenimento È un valore No Loro fanno una cosa Completamente diversa Ma anche in questo E poi bisogna riconoscerli Un'originalità E una capacità Di imporsi Con Una storia Che è Truce Di scontri Conflitti Vendetta Classica È classica Ma anche per esigenza Perché se vuoi essere Così alto Così diverso Così Così originale Dal punto di vista Silistico Beh la storia Alla fine deve essere Abbastanza riconoscibile Non puoi essere originale Anche nella storia Altrimenti Andiamo nel campo Proprio dell'avanguardia E ci perdiamo No Questa è una storia Classica Molto divertente Molto appassionante Molto bella Da leggere Con personaggi Strong Molto strong E però la lingua È poetica La lingua ti stupisce E Sono sicuro Che non si è adatta A tutti Perché se non hai Se non hai voglia E anche se non hai Abitudine Se non hai un certo Eclettismo Nella lettura E ti perdi Ti perdi molto spesso Altrimenti All'opposto Godi Godi Mentre ti perdi In questa prosa Di cui vi voglio Dare qualche esempio Perché li considero Veramente degli autori Veramente dei grandi scrittori E qui Lo dico sempre Con grande odio Con grande antipatia Capitemi Capitemi Perché In ogni pagina Mazza e sensolini Sono riusciti a creare Qualcosa di Memorabile Che andrebbe poi Riletto Analizzato Che merita di essere Messo al microscopio Guardate Questa è la prima pagina Il prologo Di Vilupera E c'è Questa è stata La prima frase Seguitemi Lo so che sembro Un cazzo di professore Di italiano Però Questo è un canale culturale Insomma Mettetevi comodi State buoni Questa è stata La prima frase Che mi ha Fatto capire Che Mazza e sensolini Sapevano Quello che stavano Facendo E che lo facevano Bene C'è questo Vi leggo Questa brevissima Serie di parole Questo personaggio Si muove In una selva E dice Ci scrivono Scrivono gli autori Scomodo Laccetta Dall'astuccio Fine Non dico altro Perché Questa frase Mi ha fatto capire Di essere alle prese Con autori Che fanno tanto Gli amiconi Ma poi sono Dei letterati Di rara sensibilità Perché non hanno scritto Estrasse laccetta Non hanno scritto Sguainò O sfoderò O snudò Hanno scritto Scomodo Scomodo Ma voi capite Il pensiero O l'istinto Il senso Della frase Che c'è dietro L'uso Di scomodo Scomodare Laccetta Dall'astuccio Vi dico Qui siamo Nel regno D'Italia Un paese Di lassisti Di pigroni Pelandroni Di sciattoni Di Impiegati Del catasto Che non vogliono Scomodarsi Che non vogliono Affaticarsi Più Del necessario Che non vogliono Responsabilità E così è l'accetta Che vuole restare Nel suo astuccio Nel suo fodero E quindi Quando viene Tirata fuori Viene scomodata Perché deve Lavorare Capite? Capite? Questo è Questo è Grande Intuito Letterario Ma poi Beh ci sono A ogni pagina Vi dico Ci sono Grandi Esempi Di scrittura Ispirata Ricercata Riuscita Vi leggo Qualcosina Il cardinale Si mascherò Nella trama Di ombre Tornò Rivolto All'altare Dove Candele Cremavano Il vuoto Ora Dite quel che volete Ma questo Non è normale Non è normale Non è normale Nell'ambito Non è normale In un Ambiente Di scrittori Ce ne sono Di bravi italiani Pubblicati E non Ma In un ambiente In cui Tutti si dicono Scrittori Tutti si pubblicano O si autopubblicano O vengono pubblicati E scrivono Di merda Scrivono Sciatto Scrivono Scolastico E poi Magari fanno Le pulci A questi due Che si presentano Appunto Come due amiconi Due compagnoni E gli fanno Le pulci Perché Ah no Sono storie crudeli Ci sono Gli stupri Il Green Dark E ne fanno Una questione di genere Non sapete Leggere Se fate Fate attenzione A questi dettagli Perché Questa è la scrittura E me ne assumo La responsabilità Certo Questa è la mia opinione Però Vi devo dire Quel che penso Andiamo avanti Vi voglio leggere Qualcos'altro ancora Per descrivere Una faccia Coperta Tramata Di cicatrici Che si corruga Loro dicono Lo spartito Di cicatrici Si corrugò C'è tanta creatività In questo Ho Pochissima affinità Con le lettere Il carnace Ma altissima Per i metalli Piombo Bronzo Acciaio E oro Naturalmente L'unico a non corrompersi Ma a corrompere Tutto il resto E non venitemi a dire Che qui non c'è un pensiero Dietro questa Osservazione Una visione del mondo Una poetica Che è quello che serve In un autore Che non è solo uno Che racconta una storia Ma ci trasmette La sua visione Del mondo Altrimenti E' un po' meno interessante Il tutto No? Ah ancora Lo sguardo Crudo Duro Di questo personaggio Che sta ascoltando Ne sta ascoltando Un altro Il quale parla E cosa ci dicono? Come lo descrivono? Schegge di silicio In un museo di battaglie Attesero il resto Il volto di quest'uomo È un museo di battaglie E' chiaro che Al lettore viene chiesto Di impegnarsi Di ricreare l'immagine Ma con un linguaggio Estremamente evocativo E poetico E alla fine ragazzi E' tutto così Qualche volta Mi sono perso Devo dire la verità Secondo me Ancora il dosaggio Di questo lirismo Crudo Inviluppo L'ho trovato Ancora forse Un po' eccessivo Un po' Squilibrato Di quando in quando Però Però Il fatto che mi richiedesse Questa attenzione E che tanti periodi Fossero così Così luminosi Nella loro Evocatività Beh insomma Mi ha regalato Ore di lettura Completamente diverse Dal solito A questo aggiungete Che secondo me Effettivamente Questa è una strada Per il fantasy italiano Questa è una strada Che però Adesso non è che vada Replicata Pedissequamente Attenzione Però è una strada Per effettivamente Dare Dare vita A un'etica A un'epica Per meglio dire Un'epica che sì È molto italiana Come dire Diceva quel personaggio Della serie Lì insomma Sì quella Faceva morire da ridere È molto italiana Ma Guardate Non esiste paese Al mondo Più crudele Dell'Italia Per lo meno Nel mondo occidentale Forse solo Gli Stati Uniti Ma noi dobbiamo Riconoscerlo Ma quali Vichinghi Ma siamo noi I più Crudeli Spietati Siamo noi Che ci siamo Abituati A cose Allucinanti Perché siamo I fratelli D'Italia Quindi ci va Un po' bene Tutto ormai Ma Noi Non so se L'ho già detto Detto Ma adesso lo dico Gli italiani Nascono Con un danno Di cittadinanza E poi Non E poi passano Tutto il resto Della vita A cercare di Colmare Questo danno E Siamo talmente Abituati A vivere In questo Regno D'Italia Che Ci sembra Tutto normale Ma Non lo è Non lo è Noi siamo Veramente I peones D'Europa Ed è quindi Il caso Di riconoscerlo Anche in questo Tipo di saghe Con uno sguardo Scansonato Con grande Intelligenza Che non vuol dire Però Come dire Crogiolarsi Però vuol dire Raccontare La nostra Anche capacità Di crogiolarci In tutto questo Perché a noi In un certo senso Piace Ci fa ridere Raccontarci così Come questi Straccioni Questi Mascalzoni Che comunque Se la sfangano Alla fine Perché sono Comunque intelligenti Sono furbi Soprattutto furbi Siamo il Regno d'Italia Dove la furbizia Conta più Nell'intelligenza Conta più Della cultura Conta più Della correttezza Ragazzi Il Regno d'Italia È una cosa seria Secondo me E io voglio Spronarvi A leggere Questa Questa saga Che probabilmente Avete già letto Almeno molti di voi Hanno già letto E amato Ma Nel caso ancora Non foste Non vi foste imbattuti In questa serie Fate attenzione Non si tratta Secondo me Soltanto Di un divertissement Rocambolesco E funambolico Di due scrittori Che si sono messi lì A casa loro Senza il supporto Di nessuna casa editrice A divertirsi No Col cazzo Questi due Mazze e Sensolini Io Dora in poi Li chiamerò Autori E Non solo scrittori Autori Ma Leggendo Alcune pagine Di Vilupera Mi troverò costretto A chiamarli pure Mortacci vostri Maestri